Musica Bella ragazzi sono Ben Wolfers e siamo tornati su FIFA 18 con il nostro Wolfers Football Crab direttamente in partita di nuovo con i nabbi sempre perchè siamo fuori forma fisica la formazione è sempre la stessa perchè i nabbi quelli sono anche se sto trattando un Romagnori cattivissimo per la prima squadra che spero davvero di riuscire a integrare perchè in questo momento abbiamo un centrocampista difensivo adattato come centrale di difesa e vi lascio immaginare i danni che può fare ok vediamo un po' come gioca questo ragazzo come sempre stiamo giocando con un 4-4-2 nella speranza che il modulo ci dia l'equilibrio che ci serve vista la formazione di nabbi con cui stiamo giocando anche se devo dire che questo è stato eh attenzione un signor recupero difensivo attenzione su quella fascia attenzione su quella fascia siamo stranamente pari come uomini io qui penetrerei eh tiracelo uh che bella botta uh che di bella botta dai tira niente non tiriamo ma che peccato una tripla occasione buttata però abbiamo andato in confusione guardate come spazza signori eh ma come l'hai presa con il naso eh non è male questa azioncina eh non è male piazzalo lo piazza è mostro ragazzi suoi gran bel gol devo dire non me l'aspettavo gran bel gol eh ottimo passaggio filtrante qui eh e l'abbiamo piazzato bene una delle poche volte che segniamo bene 1-0 dagliela che è rientrato da fuorigioco non è rientrato mai da fuorigioco dannazione contropiede che non ti aspetti e picca la gatina che io avrei evitato tantissimo uh buona questa scivolata ma la palla è ancora nostra fallissimo fallissimo minimo giallo tendendo all'arancione io direi eh niente niente l'arbitro è cieco è anche un po' slovacco va bene io passerei la palla qui in mezzo dai che ci sei niente da fare non è vero che c'era che è successo cosa è successo cioè adesso hai visto un fallo ma quale ah quindi questo è un fallo da munizione quello di prima no complimenti arbitro complimenti lei prende fischi per fiaschi e lucciole per lanterne e lucciole anche il lavoro che faceva con quello di te a te molto vicino ridaglielo ti stiamo mettendo in difficoltà stai andando in confusione uh peccato comunque si sta andando abbastanza in confusione il ragazzo ottimo questo anticipo dagliela subito ridagliela che l'hai visto ridagliela ah fuorigioco la partita del fuorigioco ah ci siamo fregati da soli qui eh non passa attenzione che può passare questo adesso non passa per quanto potrebbe essere una bella occasione ci siamo fatti la scivata sul nostro portiere grazie e gliela regaliamo uh come andiamo via bene però eh attenzione attenzione e qui direi di darla subito via no come ha fatto ad anticiparci uh dagliela che so vai Harry Potter faccia magia e vai soprattutto in fondo uno vede ma non così non così piano santa pazienza fine primo tempo 1-0 che ci sta bene dai inizia la ripresa abbiamo un nether in campo per il povero nano strizzo che ragazzi non ce la faceva davvero più contiamo tantissimo su di lui e soprattutto su un faggio vino magico che ruba subito un pallone fantastico fagiolino e qui però non riusciamo a sfondare con il povero Iniesta che anzi si è preso una trambata in faccia pazzesca qui Edera il nuovo entrato e subito numero peccato abbiamo esagerato qui eh ok Iniesta direi che qua gliela dare assolutamente a questo giapponesino qui che penetra ma passa tira il volo no per quanto che occasione ma non è finita attenzione Harry Potter ci fai la magia no per dire la parola male mannaggia a te mannaggia ricordatemi di mandargli un mangiamorte a casa eeeh dalla portiere va Iniesta ha fatto una gran bella cosa qui leggiamo benissimo quel passaggio anche perché non poteva fare diversamente ritagliela eeeh mangia ti uomo vai Iniesta vai Iniesta bevite oh niente da fare non ha sete ok vai fagiolino che sei cattivissimo grande fagiolino qui ragazzi per la doppietta e mo sono ragazzi tuoi mamma mia per quanto bello il tiragiro per quanto uuuuh rischio rischio tantissimo rischio ah che bel diretto che aveva fatto un cassettino proprio uuuuh dalla qui e beh qua qui Iniesta direi che avanziamo no attenzione ci ha recuperato fisicamente eeeh contropiede contropiede brutto contropiede brutto per fortuna ha perso un minimo di tempo e riusciamo con un doppio intervento a bloccarlo e mamma mia ragazzi in difesa stiamo veramente messi bene peccato che per col portiere facciamo una vaccata pazzesca palo porco demonio che palo dagliela subito ridagliela male stiamo soffrendo sul finale ragazzi con questo ragazzotto qua eh per fortuna ci ha regalato un pallone ottimo per il nostro contropiede dagliela subito bravo che l'hai visto dai che penetriamo dai che penetriamo iiii mi lasci tutto questo spazio no perché ci metti il fisico però non basta fine della partita la portiamo a casa noi incredibile ma vero 1 a 0 per i nabbi ci piace e spero che anche a voi sia piaciuto questo video se così è lasciate un like commentate e condividete ma soprattutto iscrivetevi per vedere video nuovi ogni giorno vi ricordo che sono in live anche su twitch dal 9 di al venerdì alle 21 e 30 grazie e alla prossima ciao ciao